Non capisco Goku, che significa? Intendi dire che non hai più bisogno di allenarti in monofrequenza? Sì, proprio così. E perché? Puoi allenarti ancora per un giorno? Se vuoi sarebbe un peccato non approfittarne. Secondo me... Quell'allenamento... ...rovina il corpo e la mente. Fa più male che bene. Eh? E poi non ci si può riposare abbastanza... ...con il cedimento. Sentilo, adesso ho capito. La verità è che tu non sei riuscito a sopportare... ...il cedimento. Mettiamola così. Secondo... Allenarsi in monofrequenza... ...non è altro che una tortura per il corpo. Io non lo chiamo allenamento. Ma naturalmente, se tu preferisci ripetere l'esperienza, fa pure. Io non ho nulla in contrario. Anche perché, a mio avviso, ne avresti davvero bisogno. Non ho capito bene cosa vorresti insinuare. Non vorrai farmi credere che sei diventato più forte di me. Infatti, è così. E di parecchio anche. No! 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 Oh!